Buongiorno, avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale della web tv della Camera dei Deputati. Passerei la parola dopo l'introduzione al collega Cabras che è relatore con me dell'indagine conoscitiva. L'ordine del giorno reca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo, l'audizione dei rappresentanti dell'Osservatorio Permanente sul Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, Eurispes. Saluto e ringrazio per la loro disponibilità a prendere parte ai nostri lavori il dottor Gerardo Romano e il dottor Alessandro Sansoni, rispettivamente Presidente e membro dell'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Eurispes. Segnalo che l'Ispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, frondato e presieduto da Gian Maria Fara, è un ente privato e opera dal 1982 nel campo della ricerca politica economica e sociale. Dal 1986 l'Istituto è iscritto all'anagrafe nazionale degli enti di ricerca del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica. Il 1 gennaio 1993, con l'entrata in vigore del mercato unico europeo, l'Istituto ha modificato il proprio nome in Eurispes e ha proiettato la propria attività in ambito europeo e internazionale. Ricordo che l'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Eurispes figura tra i promotori nell'ambito del Festival della Diplomazia 2019 del convegno Buon Compleanno Canale di Suez, organizzato il 23 ottobre scorso per celebrare i 150 anni della costruzione del canale. Lascio adesso la parola al collega Cabras. Solo per dire che l'impegno sull'indagine conoscitiva del Mediterraneo è una delle questioni centrali della Commissione Esteri. Il Mediterraneo ci pervade in ogni aspetto della nostra vita eppure richiede aggiornamento, conoscenza, perché ci sono elementi che nella politica italiana non fanno i conti sufficientemente con la dimensione geografica del nostro Paese. Mi scuso anche in anticipo perché dovrò andare via, in anticipo perché c'è un question time, un conflitto di agenda che si è creato nel quale sono un relatore. Quindi sono molto curioso di sentire gli sviluppi dell'audizione. Grazie. Sono lieto di dare la parola ai nostri ospiti affinché svolgano i loro interventi. Grazie Presidente e grazie a tutti di questa opportunità. Come la Camera stava dicendo, il nostro osservatorio è nato all'interno dell'Eurispes. L'Eurispes ha deciso di dare corpo a questo osservatorio partendo da un'analisi di quello che stava succedendo nel Mediterraneo. Come veniva appunto ricordato, il Mediterraneo ha assunto e continua ad assumere un'area sempre più strategica su quelle che sono le condizioni di equilibrio mondiali, ma soprattutto per quello che riguarda le aree che insistono. E tutto è nato, l'idea dell'osservatorio, da una considerazione. L'Eurispes, come veniva ricordato, segue con attenzione tutta una serie di fenomeni che riguardano le politiche estere e quelle che sono i flussi. Abbiamo studiato con attenzione il comportamento del BRICS. E abbiamo visto come il cosiddetto BRICS avesse individuato delle vere e proprie strategie intorno all'area del Mediterraneo. E ci siamo interrogati come mai Brasile, Russia, Cina, Sudafrica individuassero delle strategie organiche rispetto al bacino del Mediterraneo e in qualche modo mancasse un momento anche nostro di riflessione su questi fenomeni. Quindi per parte nostra come osservatori abbiamo iniziato a prendere contatto e avere nel nostro parterre persone di riferimento in Italia, esperti di fenomeni di politiche sul Mediterraneo e abbiamo cercato di avere delle presenze di tutti i paesi in qualche modo che insistono sul Mediterraneo in modo da poter creare un momento di discussione, di scambio che però partisse da un presupposto che ci sembrava mancasse nel dibattito. Cioè che l'Italia è uno dei grandi paesi, usando un termine diciamo più militare forse ma una grande potenza che sta sull'area del Mediterraneo e quindi sarebbe importante che anche le azioni dell'Italia fossero in qualche modo a nostro avviso coerenti con una dimensione essenziale dell'Italia dentro l'area del Mediterraneo. Questo perché accanto a una operazione che in qualche modo non può essere che è coordinata nel nostro Governo con quelle che sono le politiche dell'Europa ma senz'altro dobbiamo immaginare che su questo è bene che l'Italia abbia delle proprie strategie dentro quest'area e siamo partiti appunto dal presupposto come una delle strade significative che erano state percorse dai BRICS ma in qualche modo anche già attraverso il fenomeno della cosiddetta primavera araba come lo strumento economico e quindi la comunicazione da un lato e l'intervento economico dall'altro oltre che l'intervento militare caratterizzasse in maniera importante quello che possono essere l'evoluzione politica dentro i paesi che affacciano soprattutto quelli arabi sul bacino del Mediterraneo e dall'altro comprendere anche che gli interessi dell'Italia in questa area sono da un punto di vista economico assolutamente importanti e per quello che riguarda una presenza storica per l'approvvigionamento di risorse ma anche perché da un punto di vista commerciale perché quello può essere per noi un momento di scambio essenziale rispetto a quelle che è la nostra capacità produttiva ma anche il nostro know-how per questo appunto abbiamo sviluppato una serie di rapporti ad esempio abbiamo sviluppato un accordo come osservatorio con un consorzio di università egiziane proprio per promuovere questo scambio andando di conoscenze andando noi in qualche modo a cercare di far dialogare attraverso meccanismi che siano rispettosi delle culture di tutti ma anche rispettosi appunto della possibilità di muoversi in un sistema equilibrato e pacifico e che rivendica come ho detto per l'Italia un punto centrale perché noi nel Mediterraneo occupiamo un punto centrale e su questo anche sulle aree di crisi che pure interessano il Mediterraneo vogliamo essere momento di stimolo per il mondo politico per il governo con quelle che possono essere appunto delle indicazioni che provengono soprattutto da questi scambi che stiamo mettendo in campo dove vorremmo che i rapporti anche tra il nostro mondo economico e quello che troviamo nei vari paesi fosse aiutato in uno scambio che possa portare la presenza economica dell'Italia in maniera come dire più importante anche in questi paesi ripeto quello che rivendichiamo e che stiamo cercando di impostare come lavoro è aiutare come dire il nostro paese a instaurare un rapporto di collaborazione ma di collaborazione con la coscienza di dover e poter svolgere un ruolo importante nell'equilibrio dentro il bacino del Mediterraneo grazie buonasera a tutti quanti grazie per l'attenzione che ci state dando che state dando all'osservatorio del Mediterraneo dell'Eurispes come avete sentito il nostro istituto ha messo in campo quindi uno strumento proprio per corroborare una serie di strategie che riteniamo possano essere utili e essere messe in campo insomma in questa fase che come si diceva prima lo scacchiere Mediterraneo acquisisce un'importanza sempre più strategica per un po' di tempo dopo la fine della guerra fredda il nostro paese ha avuto un ruolo minore dal punto di vista geopolitico rispetto a quello centrale che aveva ricoperto nei primi 40 anni del dopoguerra sembrava quasi che dovesse divenire anche marginale rispetto a quelle che sono le direttrici della grande politica del mondo occidentale oggi invece ci accorgiamo che come si diceva prima il Mediterraneo è ritornato ad essere attraversato non soltanto dai barconi dei migranti ma evidentemente anche da tutta una serie di questioni che è opportuno affrontare e possibilmente anche proporre all'opinione pubblica nella misura in cui se come diceva prima il Presidente Romano l'Italia è una grande potenza regionale del Mediterraneo non ci si può esimere per coltivare gli interessi del paese da un'attiva azione pedagogica anche nei confronti dell'opinione pubblica che deve capire come sia fondamentale andare al di là dell'individuazione dei buoni e dei cattivi nelle varie crisi ma piuttosto cominciare ad avere una prospettiva che è quella del nostro paese quindi il Mediterraneo è così importante ma è purtroppo da almeno nove anni a questa parte attraversato da delle crisi destabilizzanti fondamentalmente il luogo dove più di ogni altro al mondo regna una situazione di caos il che naturalmente non è un fatto positivo per la nostra dinamica geopolitica magari ad altri paesi che vi si affacciano il rimiscolamento delle carte può essere anche positivo altri paesi ancora che non si affacciano al Mediterraneo possono vedere la confusione come un'opportunità per noi italiani non è assolutamente così il nostro è un ruolo deve essere un ruolo di stabilizzazione del quadro dello scenario mediterraneo in questo senso le primavere arabe è evidente che hanno giocato un ruolo oggettivamente anti italiano al di là del giudizio che si può dare politico, morale, anche ideologico dei regimi che in qualche modo mantenevano lo status quo fino alle primavere arabe quello che è accaduto successivamente la destabilizzazione che si è avuta prima in Tunisia poi in Egitto poi in Siria e soprattutto in Libia ha nuociuto agli interessi del nostro paese quantomeno agli interessi migliori del nostro paese e quindi su questo l'Italia si è trovata sulla linea del fronte di fatto una linea del fronte che ci ha imposto una serie di interrogativi un interrogativo per esempio legato alla situazione in Libia la fine del regime di Gheddafi che tipo di Libia poteva portare a risorgere? le varianti sono tre la prima è quella a cui assistiamo cioè un paese nel caos totale la seconda è un nuovo regime più o meno democratico unitario la terza è invece quella di spappolare praticamente lo stato libico in tre aree o due aree Tripolitania Cirenaica e poi c'è il Fezzan dietro insomma che è un po' il retroterra strategico della situazione libica che in qualche modo assieme al caos generalizzato è per molti aspetti lo stato dell'arte attuale con il quale noi ci andiamo a confrontare questa ipotesi diciamo di riconfigurazione dello scenario libico fa il paio con la riconfigurazione del Medio Oriente e quindi con lo scenario che ha interessato la guerra civile siriana cioè parliamo sempre di una rimessa in discussione per ragioni storiche anche valide volendo di quelli che sono i confini che sono stati tracciati in queste aree dopo la prima guerra mondiale sostanzialmente innanzitutto quindi dopo la fine dell'impero ottomano e renderle magari più coerenti con la dinamica tribale o religiosa effettivamente vissuta dalle popolazioni sul territorio anche lì anche nel vicino Oriente noi abbiamo assistito a una come dire un conflitto che in qualche modo per esempio tendeva a superare il confine siriano iracheno non soltanto in una logica di terrorismo ma in una logica veramente geopolitica il famoso Daesh il famoso ISIS costituendosi diciamo come stato di fatto transnazionale dava vita a quella che taluni hanno chiamato come un possibile sunnistan quindi una compagine politica in grado di riunire i sunniti di tutta quell'area che erano rimasti in una certa misura scoperti dopo la deflagrazione dell'Iraq di Saddam Hussein e che vedevano come un'opportunità anche il venire meno della forza del regime siriano di Assad in tutto questo poi con uno scenario che vede presenti comunità cristiane soprattutto nel vicino oriente ma anche nel nord africa in particolar modo nell'Egitto destabilizzato ecco c'è chi ha concepito una strategia di questo tipo c'è una parte del mondo musulmano che in qualche misura fa capo anche a una corrente di pensiero che è quella dei fratelli musulmani che vedeva nella riconfigurazione dello scenario del vicino oriente del nord africa un'opportunità insomma per disegnare dei confini che fossero meno dipendenti da quella che era la costruzione geopolitica approntata dalle potenze europee dopo la fine dell'impero ottomano e questo poi aveva un riverbero proprio nella Libia perché questa tripartizione dello scenario libico in qualche modo è stato teorizzato da quella area della politico culturale dell'islam sunnita il punto è alla Libia e poi torniamo alla Siria e chiudiamo sui cristiani cercherò di essere il più breve possibile in modo tale da lasciare parlare anche i commissari e fare qualche domanda il punto è all'Italia una Libia tripartita conviene è coerente con i nostri interessi di fatto oggi ce l'abbiamo perché abbiamo la Tripolitania governata dal governo legittimo che noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere riconosciuto a livello internazionale amico di paesi come la Turchia e come il Qatar per molti aspetti anche collegato a ambienti della fratellanza musulmana e nello stesso tempo però attento anche come dire alle esigenze anche di approvvigionamento energetico del nostro paese perché noi sappiamo che lì in Tripolitania ci sono gli stabilimenti più importanti governati dall'ENI e però poi abbiamo una cirenaica nella quale modestamente insomma siccome godiamo di apparati di sicurezza molto competenti che conoscono bene lo scenario noi non siamo completamente siamo ufficialmente completamente assenti ma non lo siamo di fatto sono state messe anche in campo delle iniziative tra gli enti locali tra Bengasi per esempio il nostro paese qualche mese fa ci fu un'iniziativa anche della Federpesca che però poi fu sconfessata per facilitare come dire l'arrivo e naturalmente l'attività dei nostri pescherecci siciliani nelle acque antistanti la cirenaica senza dover correre il rischio magari di essere sequestrati dalla capitaneria di Porto Libica comunque insomma dei contatti sono continuati un'attività italiana è rimasta però oggettivamente la cirenaica sparisce da quello che è il nostro raggio d'azione più immediato e comunque sia di fatto poi sotto un controllo quello del generale Haftar che è tecnicamente avversario nostro nel momento in cui noi siamo tra coloro che hanno riconosciuto il governo di Serrace in più poi c'è tutto il grande dramma del Sahel e del Fezzan che è interessato ai grandi flussi migratori con le tragedie umane che conosciamo e con l'impatto poi che questo determina sull'Europa ora su questa sulla questione libica l'Italia forse avrebbe potuto svolgere un'attività di maggiore protagonismo diplomatico naturalmente e non di altra misura e avrebbe anche potuto e dovuto immaginare un'articolata politica estera che lo ricordiamo non può essere condizionata esclusivamente dal nostro approvvigionamento energetico cioè questo è un dato fondamentale della nostra politica estera l'importanza che ha il recupero delle fonti e delle risorse energetiche ma una potenza una grande potenza regionale si occupa anche di altro si occupa anche dei migranti della crisi dei migranti si occupa anche delle presenze cristiane nello scenario perché da noi ci sta la città del Vaticano per la nostra storia questa è un elemento molto molto importante però si occupa anche in generale del prestigio che un paese deve avere in uno scenario per continuare a contare non sempre crisi diplomatiche conflitti di presenze di cooperazione o di altra natura sono dovute all'interesse economico spesso l'interesse può essere più sfaccettato e può essere anche una questione di prestigio nazionale come per esempio per certi aspetti accade nel Sud America quando gli Stati Uniti mostrano una maggiore attenzione verso determinate crisi che si vengono a creare la necessità quindi di andare oltre l'approvvigionamento energetico spinge anche il nostro paese a considerare una sua attività significativa nello scenario del vicino oriente e questo proprio anche in ragione delle nostre forti caratterizzazioni e nel ruolo centrale che noi giochiamo per quello che riguarda il cristianesimo nel mondo noi abbiamo vissuto abbiamo assistito a 7 anni di guerra 8 anni di guerra civile in Siria abbiamo visto gli ultimi strascichi insomma negli ultimi mesi quando c'è stata insomma l'avanzata di Erdogan nel nord della Siria l'opinione pubblica ha abbracciato indistintamente e indiscriminatamente la causa kurda in quel momento sia per una simpatia nei confronti del popolo kurdo sia per la generale come dire insoddisfazione che l'esercizio delle armi e della forza genera ovviamente nell'opinione pubblica occidentale però il punto è quanto che ruolo effettivamente può giocare il nostro paese anche a livello diplomatico in uno scenario come quello dove tra i più interessati alla come dire alla persecuzione che alle tragedie umanitarie che ha prodotto la guerra civile sono proprio i cristiani di oriente che infatti sono fortemente diminuiti e sono tra i principali profughi e soprattutto hanno scelto spesso strade che non sono quelle irregolari per esempio della rotta balcanica ma invece quelle dei canali umanitari attraverso la Giordania con tutta una serie di problemi che questo ha comportato ecco anche lì forse l'interesse dell'Italia era quello di favorire una stabilizzazione dello scenario una avviare una vicinanza insomma alle comunità cristiane locali ascoltare quelle che erano le anche le indicazioni che venivano date nella definizione di una posizione politica in quell'ambito in Siria si è avviato un processo di normalizzazione del paese dopo tanti anni di guerra civile è un dato di fatto che si è andato a che il governo legittimo siriano riconosciuto alla comunità internazionale ha normalizzato quasi il 90% del paese lo ha normalizzato lo ha messo in equilibrio chi è stato lì sa che la guerra civile attorno a Damasco e su su fino ad Aleppo oramai è stata come dire è finita è terminata rimane questo pezzo di di Siria interessato il pezzo il nord della Siria interessato viceversa all'offensiva turca un'offensiva che giustamente il nostro governo ha condannato ma che l'opinione pubblica per certi aspetti ha frainteso nel momento in cui addirittura c'è stato chi ha parlato di costruire finalmente un Kurdistan indipendente ecco la domanda è costruire un Kurdistan indipendente che significa che vogliamo smantellare quattro stati sovrani e farne uno nuovo perché parliamo di oltre alla Siria parliamo dell'Iran parliamo della Turchia e parliamo dell'Iraq e scompaginare definitivamente il quadro e il mosaico del Medio Oriente già così travagliato su questo l'opinione pubblica deve essere informata nel modo migliore bisogna cercare di non sollecitare suggestioni insomma che potrebbero portare poi a fare pressioni sui governi che sono assolutamente inapplicabili a meno che non si voglia scatenare insomma una guerra noi dobbiamo io ritengo elaborare come paese delle strategie che portino finalmente a una pacificazione del quadro mediterraneo trovare il modo migliore anche per normalizzare i nostri rapporti con l'Egitto che era un nostro partner fondamentale che invece negli ultimi anni per una serie di crisi a cominciare da quella del famoso giornalista Regeni hanno compromesso i nostri rapporti bilaterali e come osservatorio noi riteniamo che il filone rappresentato dalla presenza delle purtroppo sempre più residuali e sempre più messe sotto scacco dalla pressione della maggioranza della popolazione musulmana dei cristiani in quelle aree possa essere un veicolo in qualche modo di intervento con soft power quindi andando a dialogare con pezzi di quelle società che possono essere a noi più vicini ascoltando quelle che sono le loro esigenze le loro richieste ma senza solleticare e vellicare l'identità religiosa in un senso aggressivo perché questo è un altro rischio che si corre quello di costituire è un'altra di giadismo cristiano messo tra dieci virgolette da una parte e dall'altra che non è evidentemente né nell'interesse delle comunità cristiane né nell'interesse dell'Europa e dell'Italia nella fattispecie che però meritano nello stesso tempo di avere tutta l'attenzione necessaria da un paese che è la culla della cristianità ripeto sono comunità che hanno vissuto in toto la crisi rappresentata dalle primavere arabe sono delle comunità che hanno più di altre sofferto la marginalizzazione della società che questa hanno determinato e che guardano per forza di cose al nostro paese come un punto di riferimento che può in qualche modo indirizzare insomma anche gli sforzi diplomatici della comunità occidentale grazie mille non posso esimermi nella duplice veste di relatore dell'indagine conoscitiva vicepresidente farvi presente che proprio a partire da questa commissione è nata l'anno scorso con la scorsa legge di bilancio l'istituzione con un mio emendamento di un fondo per i cristiani perseguitati l'Italia diventa così uno degli unici due paesi al mondo assieme all'Ungheria ad avere questo fondo che è proprio volto aiutare i cristiani a permanere in quelle terre dove risiedono da millenni o a rinsediarsi dopo i conflitti ecco quindi è un tema ben presente a questa commissione con un largo consenso bipartisan e a questo proposito vi chiederei come prima domanda ma poi raccogliamo anche quelle dei colleghi quale sia secondo voi l'approccio migliore per tutelare queste comunità che deve seguire l'Italia ovviamente il nostro interesse è precipuo che il Mediterraneo si stabilizzi perché le aree di caos sono evidenti alcune in miglioramento altre stabili o in peggioramento e quindi davvero questo può essere il nostro spazio economico il nostro spazio di commercio ed è interesse nazionale del nostro paese che davvero si possa al massimo esprimere le nostre potenzialità in quest'area qualche collega ha delle domande da porre Ianaem grazie Presidente si ringrazio RISPES per questa panoramica mi permetto di dire che ho diversi punti di vista diversi su alcuni punti proverò di elencarle brevemente e magari riuscire effettivamente a creare anche uno spazio di discussione su queste tematiche mi sono assegnata alcuni punti dall'inizio la prima cosa che volevo dire era sulla questione primavera e arabe sul fatto che questo ha creato delle problematiche ovviamente anche agli interessi o creato dei danni agli interessi italiani questo ovviamente non c'è dubbio e si è creato una difficoltà e una instabilità enorme in tutto il bacino del Nord Africa e del Medio Oriente ciò che però mi preme dire è che quello è sicuramente interessante è che mentre a livello politico questa instabilità ha perdurata anche perché per l'appunto a parte la Tunisia abbiamo visto un continuare di difficoltà politiche che in alcuni paesi sono perdurate anche fino ad oggi a livello economico invece è stato sorprendente vedere questo almeno visto dagli studi che soltanto per il 2011 sono state delle disparità a livello economico mentre poi i rapporti economici sono ripresi abbastanza omogeneamente e quindi non provocando tutti quei danni mentre a livello politico posso essere concorde che sicuramente l'insabilità è stata notevole e anche il fatto di ricostruire alcuni rapporti con alcuni paesi è stato piuttosto faticoso la questione sulla Libia è sicuramente uno dei punti caldi di cui noi discutiamo molto frequentemente anche in commissioni e sicuramente anche abbiamo provato a fare un lavoro ampio ovviamente con la conferenza di Palermo e dopo attualmente stiamo collaborando affinché riesca ad avvenire la conferenza di Berlino ho parlato anche con i vari omologhi degli altri paesi sulla questione in quanto me ne interesso e siamo sicuramente a dei passi in avanti se conviene all'Italia certamente no non conviene all'Italia una Libia tripartita non conviene però secondo me a nessuno abbiamo di fronte a noi specialmente questo dipende da noi in quanto noi facciamo parte del Mediterraneo un paese che è letteralmente in guerra che ha un conflitto perdurante che quindi ha delle ripercussioni economiche migratorie eccetera però questo sicuramente non è soltanto una tematica che riguarda solo l'Italia ma sicuramente riguarda tutto il vaccino mediterraneo inclusi i partner nordafricani che anche essi ne soffrono la questione kurda brevemente credo che quello è successo con l'intervento militare da parte della Turchia abbia visto una risposta omogenea e a mio parere favorevole alla questione parliamo di una situazione attuale nel quale nel quale abbiamo vissuto anni e anni di guerra e un altro intervento militare tra l'altro strumentale assolutamente non era visto bene e sicuramente era da condannare e che avevamo anche condannato i kurdi hanno contributo notevolmente nell'aspetto dell'anti-daesh e nel combattimento credo anche che questo aspetto di mettere sempre in confronto il PKK con lo IEPG non sia corretto anche perché parliamo effettivamente di due organizzazioni molto differenti soprattutto dall'ambito temporale parliamo di un PKK che è nato negli anni 70 che ha cambiato la sua faccia in tantissimi momenti mentre lo IEPG nasce proprio anche su volontà degli americani se vogliamo dirlo durante la guerra siriana e quindi ha tutta un'altra impostazione poi viene sempre associata ma in verità secondo me questo è un punto importante e se poi chi ci ha rimesso sono proprio cristiani farei attenzione su questo i cristiani ci hanno rimesso tantissimo specialmente gli iracheni e specialmente i siriani Aleppo ed Idlib ma ricordiamoci che parliamo di un mezzo milione di morti 5 milioni di sfollati che sono principalmente siriani quindi tutti gli abitanti lì che riguardano sia musulmani che minoranze eccetera così quindi vorrei piuttosto dire che piuttosto che cristiani parliamo di catastrofe umanitaria che purtroppo comprende tutti il processo di normalizzazione credo che sia in atto ma non parlerei assolutamente che siamo in un processo vicino a una stabilizzazione e normalizzazione parliamo di un paese che forse vede una sua stabilizzazione parziale nell'area di Damasco appena arriviamo più verso l'area est l'area sud abbiamo avuto l'altro giorno bombardamenti abbiamo visto una scuola bombardata i bombardamenti sono giornalieri vediamo ancora comunque le agenzie ONU che viaggiano con i blindati è una situazione ancora molto precaria e non siamo nemmeno arrivati allo step di superare la questione di emergenza umanitaria quindi purtroppo siamo ancora molto lontani e io mi preme ribadirlo proprio per il fatto che a volte ci viene la voglia di ribadire che forse abbiamo superato lo step di post-guerra quando in verità purtroppo siamo ancora ben lontani specialmente con la ricostruzione di alcune sacche terroristiche ultimissimo punto questione egiziana certamente la questione con Regeni ha influito però io nel mentre stavo scrivendo un paper all'università su questa tematica non riguarda solo Regeni riguarda purtroppo sparizioni forzate di circa 400 persone all'anno e qui nella situazione che ha visto una chiusura dell'Egitto man mano e quindi Regeni è estremamente il nostro concittadino quindi per noi molto importante ma è purtroppo uno di tantissimi grazie Vito Comencini sì grazie volevo fare alcune riflessioni su quello che è stato detto e poi porre un paio di domande allora condivido ovviamente la la critica ovviamente seppur con un obiettivo positivo nei confronti delle primavere arabe e dell'instabilità che hanno creato in tutta la regione e di questa grave problematica anche se vorrei aggiungere che non va dimenticato che se da una parte ci sono state appunto le cosiddette primavere arabe o rivoluzioni o chiamiamole come vogliamo che hanno portato questa instabilità c'è anche stata una guerra in Libia dove ci sono stati degli attori internazionali che hanno sono intervenuti pesantemente hanno creato questa situazione di instabilità che altrimenti difficilmente si sarebbe creata semplicemente con diciamo le rivolte popolari o quant'altro altrettanto riguarda la Siria voi avete parlato di guerra civile che sicuramente in parte è corretto dirlo nel senso che è evidente insomma che è un paese con molte diversità con molte particolarità e quindi è evidente che sicuramente le tensioni da questo punto di vista sono forti però anche lì gli attori internazionali sono stati e sono pesantissimi insomma l'abbiamo visto recentemente con la Turchia ma come giustamente voi avete detto per una questione anche di integrità del paese è evidente insomma che la questione è molto delicata ma sappiamo benissimo che se a un certo punto da una parte non fosse intervenuta la Russia e dall'altra non fosse intervenuta l'alleanza da parte attraverso l'Iraq e quindi anche gli Stati Uniti in supporto dei curdi per carità dall'altra parte di Assad l'Isis non sarebbe stata sconfitta e poi l'Isis stessa insomma sappiamo che sicuramente per quanto possa essere nata da un fondamentalismo islamico radicale che purtroppo spesso è presente in alcune regioni però di fatto anche sicuramente ha avuto dei sostegni forti da parte di qualche potenza che magari non li ha sostenuti ufficialmente ma ufficiosamente li ha tollerati e poi sappiamo com'è andata a finire e condivido poi ovviamente il ragionamento della necessità del ruolo di protagonista dell'Italia da questo punto di vista nella regione del Mediterraneo per garantire la stabilità anche perché per noi vuol dire anche garantire o comunque migliorare l'intervento nel contrasto al traffico di esseri umani quindi all'immigrazione clandestina il traffico di sostanze stupefacenti e tutto il tipo di attività criminali che le situazioni di instabilità vanno inevitabilmente a favorire e lo avevamo visto in passato infatti quando comunque volenti o nolenti seppur con dei regimi in Libia e Tunisia c'era una stabilità e si riusciva attraverso degli accordi a intervenire mentre ora seppur ci siano degli accordi è molto diventa molto più difficile quello che volevo chiedere era in merito alle regioni dove comunque c'è un processo che cerca di creare stabilità dopo le primavere arabe la Tunisia stessa viene utilizzata spesso come esempio di paese addirittura che va verso la democrazia o comunque più si avvicina tra tutti i paesi del Nord Africa a questa forma di governo però al suo interno è anche gravissimo un problema di foreign fighters la gran parte di foreign fighters se non sbaglio che hanno combattuto per Daesh venivano proprio dalla Tunisia e qualcuno sicuramente è anche rientrato e costituisce in questo momento un grave pericolo poi c'è il Marocco insomma dove è evidente che anche lì c'è una monarchia che ha fatto un percorso molto importante nel tentativo comunque di creare stabilità all'interno del proprio paese di contrastare appunto il fondamentalismo da questo punto di vista però anche lì chiaramente le minacce i tentativi a maggior ragione da parte di queste forze di creare instabilità sono sicuramente forti e poi c'è la questione dell'Egitto dove lì qualche settimana fa tra l'altro abbiamo avuto un'audizione con i rappresentanti del diciamo degli attivisti per i diritti civili in Egitto ovviamente che hanno portato la loro visione critica nei confronti del regime di Al-Sisi è anche vero che prima che arrivasse Al-Sisi voglio dire c'era evidentemente un percorso di fondamentalismo islamico sempre più forte in Egitto ancora adesso c'è una grave persecuzione nei confronti dei cristiani non da parte sicuramente del governo ma da parte di una parte di fondamentalisti e credo che come cristiani mi sento di dire è doveroso che ce ne preoccupiamo ce ne occupiamo e cerchiamo di approfondire questa cosa e dopo da quando c'è il regime del Sisi gli ultimi dati dicono che sono comunque diminuiti fortemente gli attacchi nei confronti dei cristiani ecco questo è un dato molto importante vorrei capire se effettivamente seppur è evidente che si tratta di un regime non certo di una democrazia moderna evidentemente riesce a garantire nei confronti delle nostre minoranze cristiane copta questa tutela grazie ci sono altri interventi do la parola per la replica ai nostri ospiti naturalmente è una discussione ragione nessuno nessuno ha in questo delle verità si tratta di tentare delle analisi e quindi ci sono alcuni dati che però dovrebbero aiutarci a comprendere quello che come avvengono diciamo che cercando di semplificare certi tipi di percorsi sono stati stimolati dal mondo anglosassone quindi quello ha caratterizzato una serie di iniziative e se posso essere un po' tranchant semplificando diciamo che il mondo anglosassone e quando dico anglosassone guardo non solo agli Stati Uniti ma soprattutto a UK dove evidentemente il rapporto con gli islamici è un rapporto che spesso ha dei connotati complessi non diciamo nemmeno in termini di analisi comprendere fino a quale punto sono coerenti o non coerenti rispetto a quelle che sono le posizioni dichiarate questo ragionamento risolvendo in qualche modo non cercando di dare una risposta perché è chiaro che stiamo parlando di un fenomeno ma come dire su quello della primavera araba ricordo una bella lezione del giovane Galbraith che ci spiegava dal punto di vista degli Stati Uniti com'è che si era era una sorta di sperimentazione di cambiare il il moto il metodo di approccio su alcuni territori il luogo delle armi come si sperimentava come attraverso i sistemi della comunicazione che per la prima volta sono permeati in modo così massiccio su quel mondo è un approccio sostanzialmente di stimolo economico di promessa economica di libertà di promessa economica potesse funzionare ma ripeto non è non è quello che invece preme due riflessioni rispetto anche qui diciamo noi come osservatorio vorrei anche qui essere chiaro non intendiamo invadere campi che in qualche modo non è questo tipo di audizione naturalmente diciamo riteniamo che sia il nostro compito come osservatorio come dire accompagnare con un'analisi sulle fenomenologie delle forze in campo diciamo ci permettiamo però soltanto di dire che abbiamo potuto constatare alcuni elementi e senz'altro nella questione libica se possiamo fra virgolette tutti essere d'accordo che è interesse comune di avere un solo interlocutore sappiamo però che lì dentro questo 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 paese insistono vari e diversi interessi e che questi vari diversi interessi di Italia Francia Inghilterra e Regno Unito non sono i medesimi come in questa partita si è affacciata in maniera prepotente un altro paese che sul bacino del Mediterraneo sta svolgendo un ruolo importante che è la Turchia la Turchia attraverso un rapporto finanziario essenziale col Qatar allora mi rifaccio una battuta di Alessandro di dottor Sanzoni di qualche minuto fa al di là di quello che può essere una valutazione come dire di simpatie o di affaire è un problema anche di fotografare quali sono gli interessi in campo gli interessi in campo vedono che attraverso questo meccanismo anche quando si dice sono tutti d'accordo che in Libia sia un solo stato ho fatto prima scenno a tre paesi io di qualche paese ho un serie dubbi ma questo vale naturalmente per quello che può essere il nostro pensiero ma da un osservatorio appena nato ma che comunque ha seguito con attenzione questi fascicoli su questo tipo di ragionamento è chiaro che non crediamo che tutti stiano remando per la soluzione anche perché per quello che possiamo aver compreso anche delle ipotesi raggiunte di unificazione sono state probabilmente sabotate attraverso dei meccanismi a cui anche si faceva riferimento anche attraverso la formazione o riformazione in chiave islamica magari di grandi potenze europee quindi su questo tipo di ragionamento è chiaro che ci possono essere delle situazioni che tocca poi anche qui quindi capire rispetto all'analisi che siamo abituati a fare quale ruolo la Turchia sta svolgendo nel bacino del Mediterraneo perché anche qui credo che occorra una riflessione attenta su quelle che sono le dinamiche politiche ed economiche che riguardano questo paese anche diciamo alla luce di una capacità indubbia di chi guida quel paese di come dire prendere da tutti per rafforzare la posizione della Turchia perché questo è un po' il dato che per quello che riguarda quindi la Libia è una situazione complessa ricordo che noi abbiamo interessi importanti e questi interessi sono distribuiti nel territorio un territorio per gran parte controllato dal Mashir da Haftar e naturalmente bisognerà un attimo comprendere anche qui tra coerenze di azioni politiche internazionali dichiarate e quelli che sono gli interessi sul campo perché è chiaro che in qualche modo abbiamo visto se abbiamo compreso bene ora non sono nemmeno ma che probabilmente è entrato in Libia anche un nuovo attore che fino a qualche tempo fa era molto più marginale che la Russia quindi in questo il fatto di non esserci o di essere anche come dire particolarmente prudenti ecco naturalmente lascia degli spazi vuoti e questi spazi vuoti sappiamo è una legge fisica vengono evidentemente riempiti e se e quindi questo ragionamento che vi proponiamo naturalmente è in qualche modo un'analisi dobbiamo su questo anche soffermarci su due elementi su uno perché un'altra grande paese che affaccia sul Mediterraneo del mondo arabo è senz'altro l'Egitto è senz'altro l'Egitto ora siccome è corretto quando ci dobbiamo porre delle domande con chi interloquiamo e anche rispetto agli interessi che sono violati eventualmente contro interessi nazionali o di nostri concittadini quello che io credo è che comunque è bene arrivare a delle analisi molto precise circa i fenomeni perché credo che le sedi istituzionali senz'altro al di là nel momento in cui devono compiere l'analisi devono compiere l'analisi avendo come dire chiaro quello che evidentemente è un panorama rispetto agli interessi di chi era lì a rappresentare perché se no anche qui diventa un problema un po' complesso ecco perché ma su questo noi ci auguriamo che ci possa essere naturalmente il massimo del chiarimento nei rapporti tra le autorità italiane e le autorità egiziane fermo restando che poi bisognerà pure risolvere un chiarimento con chi non spiega come mai perché ha mandato quel ragazzo lì insomma ecco lo dico perché poi queste cose vandranno ma non perché ripeto perché se ci avviciniamo ai problemi con il giusto sbagliato bene o male come se ci fossero i buoni e i cattivi credo che andiamo poco lontano bisogna capire che in grandi paesi come in grande situazione ci saranno situazioni immagino complesse con tutta una serie di interessi che sono come dire garantiti anche rispetto a interessi che sono esteri esterni a questi paesi e allora bisogna capire se l'Italia anche su un paese che fa l'8% di PIL di crescita e che comunque può essere un modello di sviluppo in quell'area proprio per dare delle risposte sia perché è un paese arabo ma è un paese africano e quindi in questo senso riuscire a capire se una presenza dell'Italia in Egitto che accompagna l'Egitto insieme a quello che sta facendo in maniera importante la Germania si parlava prima del canale di Suez i due più grandi investitori sono i cinesi e i tedeschi quindi voglio dire questo lo dico perché poi così ci aiutano e quindi su questo bisognerà appunto sviluppare a nostro avviso un'attenta analisi per comprendere ripeto quali sono i nostri interessi e i nostri interessi in un clima di stabilizzazione vuol dire aprire anche i nostri mercati anche i nostri aprirci nuovi mercati e un nuovo mercato non può che partire e come dire cambiare le abitudini e cambiare anche alcuni tipi di costume noi siamo convinti che anche un commercio garantito che trovi delle regole e modelli di sviluppo coerenti con quello che comunque ora al di là dei giudizi che si vogliono dare è un modello di sviluppo occidentale di quel tipo di democrazia che noi viviamo è chiaro che credo dobbiamo essere pronti a accettare anche nel rispetto nel rispetto di quelli che sono i diritti evidentemente di tutti questo qui è essenziale ma ricordo che problemi analoghi se ricordo bene ma forse ricordo male li abbiamo avuti anche con la Turchia che pure mi sembra che poi rispetto ad alcuni ragionamenti siano invece venuti un po' meno mi taccio con un solo dato che vuole essere un contributo rispetto a un'osservazione corretta che è stata fatta che indubbiamente in alcuni paesi come l'Egitto ad esempio con questo tipo di sistema in un momento in cui le conflittualità all'interno del mondo musulmano sono talmente ampie e ancora con un retaggio fortemente ideologico religioso che indubbiamente la comunità cristiana in Egitto copta è diventata comunque un punto di riferimento in qualche modo già lo era avendo una tradizione economica importante ma evidentemente è diventata un momento che anche può avere e ha le sue visibilità anche istituzionali quindi questo è un po' il percorso che noi stiamo proponendo è quello di aprirsi a questi mondi attraverso soprattutto progetti di cooperazione economica che consenta alle nostre imprese di operare su quei territori e operare su quel territorio vuol dire operare anche in termini di legalità di presidi di territorio dando occupazione laddove serve e esportando il nostro know-how e il nostro non è fatto soltanto di elementi tecnici ma è fatto anche di tanta cultura soprattutto della piccola e media impresa che quando si sposta porta un metodo di lavoro un modello di lavoro che crediamo possa arricchire e stabilizzare il processo di pace dentro il Mediterraneo Sì sarò brevissimo a corroborare quello che ha detto il Presidente Romano per esempio ricordo che in Egitto nella zona franca attorno al canale di Suez ancora non c'è una presenza significativa italiana mentre invece ci sono le presenze di tanti altri paesi importanti insomma dell'Occidente e questo è un po' un paradosso laddove ci sono delle opportunità anche e soprattutto per le nostre piccole e medie imprese invece andando un attimo a riprendere il discorso sulla pacificazione della Siria che veniva posta prima all'Onorevole non ancora completata come hanno dimostrato anche i bombardamenti che ci sono stati negli ultimi settimane alcuni dei quali condotti da aeree israeliane come è stato anche insomma sottolineato da Arez e da alcune dal quotidiano israeliano Arez e anche dalla presa di posizione della Russia che sostiene di non voler più come dire accettare insomma violazioni dello spazio aereo siriano io dico che e come Urispes riteniamo che questo processo di pacificazione che ovviamente non è completo e che però sicuramente ha portato negli ultimi due anni tre anni un riordinamento insomma del territorio sicuramente non ci sono più i drammi e la conflittualità che abbiamo conosciuto in periodi ben più gravi che è stato ottenuto grazie in generale all'offensiva anti-ISIS e in particolare alla costruirsi di questa alleanza Assad Russia Iran e milizie filo-iraniane a cominciare da Hezbollah per effettivamente poter essere completato al di là di quello che è stato il risultato sul campo ha bisogno adesso di un ruolo attivo dal punto di vista diplomatico dei paesi occidentali non soltanto evidentemente penso agli americani ma penso soprattutto ai paesi europei dell'Unione europea e probabilmente dovremmo riferirci anche ai parlamenti dell'Unione europea mi spiego meglio l'Italia sta riaprendo finalmente la propria ambasciata a Damasco insomma in questi ultimi mesi si è lavorato in questo senso però c'è bisogno in qualche modo di riavviare forme di riconoscimento politico di quello che è poi il governo legittimo siriano perché altrimenti lì in quell'area coloro che hanno aiutato il regime di Assad a mantenersi in vita e a riconquistare terreno sul territorio evidentemente avranno comunque la possibilità di dire la propria con una certa forza il che soprattutto se è riferito all'Iran certamente non può destare la soddisfazione di un vicino come Israele allora in questo senso l'Italia e gli altri paesi europei giocano un ruolo cruciale per riequilibrare anche la percezione che si ha di come è andata a concludersi questa guerra che appunto tra l'altro il governo siriano non ritiene civile ma considera proprio una vera aggressione che ha subito la Siria con la capacità di mediazione di equilibrio che può avere la diplomazia europea la politica europea avviare forme di riconoscimento della situazione di fatto presente sul territorio aiuta aiuta a non rendere più come dire il governo presente il governo legittimo un governo percepito come ostile a Israele e magari a coloro che comunque nella regione sono avversari della Repubblica Islamica sciita dell'Iran noi dobbiamo come europei prima ancora che in questo caso insomma essere portatori di nostri interessi e di come dire assumere le parti dell'uno piuttosto che dell'altro in questo momento ragionare sulla situazione presente sul territorio in qualche modo provare tra virgolette a metterci cappello questo può essere una soluzione utile a avviare un percorso di pacificazione progressiva effettiva e che soprattutto possa produrre una diminuzione delle notevoli forme di diffidenza che coloro che hanno vinto sul campo poi generano nei vicini e anche in chi non è vicino aggiungo anche che il ruolo dell'Italia nello scenario mediterraneo medio orientale come nord africano per vedere un maggiore protagonismo del nostro paese oltre a le presenze economiche diplomatiche qualche volta militari la nostra capacità di proiezione nella cooperazione internazionale ha bisogno anche si diceva prima come dire di una presenza culturale noi queste cose le facciamo abbiamo i nostri archeologi in Libia abbiamo i nostri archeologi in Egitto ma anche in Siria a Palmira ma c'è un problema anche di rendere percepibile il nostro punto di vista in questi paesi mi spiego meglio si è parlato prima come dire anche dell'America dei paesi anglofoni di come giocano come dire una partita spesso una partita che ha anche contribuito a determinare forme di confusione particolarmente violenta noi da questo punto di vista riusciamo a veicolare il nostro punto di vista in questi paesi in maniera sistematica quotidiana i paesi anglofoni lo fanno innanzitutto con la potenza dei loro grandi network televisivi che spesso sono in lingua araba o anche con le principali agenzie di stampa la Societet Press la Reuters che sono come dire lo fa anche la Russia naturalmente con la TAS ma sono come dire strumenti che vengono utilizzati a corroborare la nostra azione politica diplomatica economica e militare l'Italia ha un notiziario in lingua araba che magari rende disponibile alle opinioni pubbliche e alle opinioni politiche di questi paesi mette in campo azioni di questo tipo questa è una domanda credo cruciale quando un paese vuole essere protagonista in un'area io vi do anche una risposta ce l'ha ma è poco conosciuto e lo fa una delle agenzie di stampa che sicuramente voi come commissione esteri seguite di più l'agenzia di stampa nova ha un notiziario in lingua araba come dire dargli una dimensione istituzionale ho fatto questo esempio ma sarebbe ancora meglio se la RAI avesse un notiziario una capacità di proiezione in lingua araba e chiaramente parliamo di ben altre risorse e di uno strumento di ben altra corposità ma pensarsi come paese che è grande potenza in uno scacchiere regionale significa anche questo soprattutto oggi in cui il confronto il dialogo il conflitto avvengono anche attraverso l'informazione il soft power ecco questo è uno probabilmente degli elementi che possono essere attenzionati dal Parlamento italiano da chi si occupa a livello di base di delineare delle strategie politiche in campo estero e fa il paio evidentemente con le possibilità che un fondo come quello di cui parlava il Presidente possono offrirci di interloquire con gli attori presenti sul territorio sia quelli istituzionali sia quelli non istituzionali tenendo sempre presente però per esempio nel caso siriano che è importante passare per i canali ufficiali e non come dire puntare soltanto al come dire all'organizzazione presente sul territorio che magari corrisponde ed è coerente con quelli che sono gli scopi del fondo perché altrimenti questo in un contesto come quello siriano che è un contesto mosaicale di presenze differenti alawiti drusi musulmani sunniti musulmani sciiti eccetera può poi invece determinare un effetto contrario a quello che è perseguito evidentemente da questa commissione cioè un processo di pacificazione non ci sono ulteriori interventi ringrazio di cuore gli ospiti e dichiaro conclusa l'audizione grazie grazie a voi passiamo all'ufficio di presidenza grazie a voi grazie arrivederci grazie